Cambio programmazione Mediaset maggio, slitta la finale Amici 22, Stop Uomini e Donne. Cambio programmazione sulla rete Mediaset nel corso del mese di maggio. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia del Prime Time, dove ci sarà spazio per una importante variazione legata alla messa in onda di Amici 22. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi si avvierà verso le battute conclusive di questa stagione e cambierà il giorno di programmazione della finale. Novità anche in Dai Time, dove si assisterà allo stop di Uomini e Donne, condotto sempre Maria De Filippi. Il cambio programmazione Mediaset del mese di maggio interessa in primisi fan di Amici 22. Il talent show che anche quest'anno sta registrando ottimi ascolti in prima serata. Nel sabato sera di Canale 5 la trasmissione condotta da Maria De Filippi riesce ad assicurarsi una media di quasi 4 milioni a settimana. Con punte di share che toccano anche il 30%. Numeri importanti che ancora una volta hanno permesso a De Filippi di consolidare la propria leadership sul pubblico del Prime Time. In vista del gran finale di questa edizione, gli spettatori del talent show dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 non di sabato sera, bensì di domenica. La finale di Amici 22, in un primo momento, era prevista per sabato 13 maggio. Come da tradizione in diretta televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset, ma alla fine non sarà così. Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto del Prime Time e l'appuntamento con la finale di Amici slitta al 14 maggio. In questo modo si evita la messa in onda contro la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 in onda su Rai 1. Il cambio in programmazione Mediaset del prossimo mese di maggio riguarda anche l'appuntamento con uomini e donne. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, chiude i battenti durante l'ultima settimana del mese di maggio. Salutando così il pubblico per la pausa estiva, dopo una stagione decisamente entusiasmante e ricca di colpi di scena. Durante il periodo estivo al posto di uomini e donne è prevista la messa in onda di nuove sopi in prima visione assoluta. Le quali avranno il compito di garantire buoni ascolti nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.15 circa. Così da assicurare sempre un'ottima media di spettatori al ritorno del talk show, previsto da settembre su canale 5. con il rap di quando mai tutti dicevano che la musica ha preso con il rap e per lui è di buon simb a ridicci staggeta, liric vorbinti, ajunge la ea doar nasa con la rachetta. S'o admire nave spaziale di Andromeda, questo è il testo, l'execuzzi come Maria Antoinetta. Da'ia da quando mi stiu, texti plin di dude, tu meritante printre dallea culte, incerci flow-uri su te la show-uri, uite cum rupe capete, lumea dà di capo rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit, ci eu scriu rime pentru mine, pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul.